Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it quest'oggi vedremo come posizionare i livelli con precisione all'interno della composizione in After Effects questo è il corso introduttivo ad After Effects, stiamo imparando le basi quindi se siete già esperti di questo software probabilmente questo non è il corso che fa per voi se siete alle prime armi siete nel posto giusto www.fabianbrosi.it il sito dove troverete anche l'indice con gli argomenti del corso oltre al corso introduttivo a Premiere Pro iscrivetevi e accendete le notifiche su questo canale YouTube per restare sempre aggiornati e c'è la pagina Facebook venite a cliccare e a mettere un like alla pagina Fabio Ambrosi bene, veniamo a noi come avere il controllo sui livelli After Effects nelle scorse lezioni abbiamo imparato ad animare, abbiamo imparato a creare livelli forma abbiamo imparato a mettere il testo, a fare semplici operazioni abbiamo anche creato un semplice sottopancia e lo abbiamo animato per renderlo un pochettino più dinamico via, mettiamola in questo modo quest'oggi facciamo un piccolo passo indietro e torniamo un po' ai concetti fondamentali di After Effects parliamo appunto, come vi ho anticipato, del come fare per posizionare con precisione gli oggetti all'interno della nostra composizione facciamo un esempio io ho un cerchio, questo è il cerchio che ho a mia disposizione immaginiamo che io voglio collocare in questo mio cerchio esattamente a un quarto della larghezza della mia composizione come fare? beh, una soluzione a occhio più o meno qui siamo a un quarto della larghezza della mia composizione ma ovviamente noi vogliamo essere precisi precisi quindi vogliamo posizionarlo esattamente al 25% della larghezza di questa composizione come fare? allora, innanzitutto un piccolo passo indietro assicuratevi sempre di avere il controllo e l'attenzione focalizzata sul punto di ancoraggio sull'anchor point questo cerchiettino che vedete qui al centro del mio cerchio ne abbiamo già parlato dell'anchor point in una lezione precedente ma oggi è veramente importante tenerlo sotto controllo perché? perché è in base alla posizione dell'anchor point che noi collocheremo questo cerchio esattamente al 25% in orizzontale della composizione in altre parole questo anchor point si troverà al 25% sull'asse orizzontale di questa composizione di default quando create una nuova forma geometrica per esempio creiamo un nuovo cerchio l'anchor point non si trova al centro vedete l'anchor point si trova al centro della composizione ma non si trova al centro del mio cerchio quindi se io andassi a posizionare come sto per mostrarvi questo cerchio al 25% della larghezza della composizione in realtà non farei una cosa precisa perché after effect calcola le distanze in base a questo anchor point quindi la prima cosa da fare è centrare questo anchor point al centro del mio cerchio come fare? ne abbiamo già parlato ma lo ripetiamo clicchiamo sul livello di cui vogliamo controllare l'anchor point col tasto destro del mouse scegliamo il menu trasforma e c'è una bellissima funzione molto comoda che si chiama centra il punto di ancoraggio nel centro del livello clicchiamo e vedete che l'anchor point va immediatamente al centro del nostro cerchio perfetto a questo punto noi sappiamo che il centro del nostro cerchio è collocato esattamente in maniera ottimale o meglio il centro dell'anchor point l'anchor point è collocato in maniera precisa al centro del nostro cerchio ora se io torno ancora con il tasto destro del mouse sopra al livello forma 1 chiamiamolo cerchio per essere organizzati e precisi come piace a noi perfetto clicco dicevo con il tasto destro del mouse scelgo ancora il menu trasformazione e clicco sulla voce posizione si aprirà una finestrella eccola qui una semplice finestrella che mi permetterà di scegliere la posizione del mio cerchio quindi vedete già che qui potete dare una posizione in base sempre all'anchor point ma in maniera manuale e precisa un po' come facevamo con la proprietà posizione nel livello vedete do 0 0 e in questo modo il mio cerchio o meglio l'anchor point si troverà nel punto 0 0 della composizione ma io in questo menu a tendina posso scegliere altre unità di misura per esempio la percentuale della composizione bene ipotizziamo di voler posizionare questo cerchio al 50% della altezza della composizione in altre parole esattamente a metà e al 25% della composizione ecco qua in questo modo dando ok ho posizionato il mio cerchio esattamente al 25% della mia composizione sulla larghezza ipotizziamo di avere un nuovo cerchio lo spostiamo e voglio posizionare questo cerchio invece esattamente in maniera simmetrica al primo cerchio che ho creato bene l'anchor point è già al centro perché l'ho duplicato con il tasto ctrl d quindi non devo riposizionare l'anchor point tasto destro del mouse sopra il livello che voglio riposizionare trasformazione posizione ancora una volta vado a scegliere dal menu l'unità di misura percentuale della composizione voglio che il mio cerchio si trovi sempre al 50% sulla verticale della composizione in altre parole voglio allinearlo in verticale e voglio posizionarlo questa volta invece che al 25% al 75% ricordo che il 100% è esattamente il punto estremo della composizione il bordo di destra lo 0% è il punto estremo della composizione a sinistra questo primo cerchio è al 25% quest'altro cerchio voglio portarlo al 75% fantastico questi due cerchi sono organizzati in maniera precisa in maniera simmetrica come piace a noi uno al 25% dell'asse orizzontale della composizione l'altro al 75% dell'asse orizzontale sempre della composizione questo è un modo preciso per posizionare gli oggetti all'interno della nostra composizione ma non è l'unico modo per essere così precisi a breve vedremo come utilizzare lo strumento allinea livelli o disponi livelli per allineare i livelli tra di loro quando abbiamo tanti oggetti da dover allineare o anche come distribuirli in maniera automatica con un click ne parleremo nella prossima lezione nel prossimo video tutorial per il momento vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video per il momento vi ringrazio